Un primo maggio di lotta a Empoli per il presidente della regione toscana Enrico Rossi che dopo il corteo per la festa del lavoro ha pranzato al presidio degli operai della cartotecnica Maestrelli, l'azienda di Sovigliana Vinci, simbolo della crisi delle aziende dell'Empolese Valdelza. Qui, nonostante le commesse, un settore che tiene è stata aperta una procedura di licenziamento collettivo per 33 lavoratori e si va verso la liquidazione dell'attività. Gli operai occupano da 40 giorni lo stabilimento e adesso si apre uno spiraglio. I lavoratori hanno avanzato una manifestazione di interesse per costituire una cooperativa e dare continuità all'impresa di packaging. La proposta di costituzione in cooperativa è stata inoltrata da Lega Coppa al Tribunale di Firenze e alla regione toscana. Se la proposta Lega Coppa sarà considerata positiva daremo tutti i nostri apporti, i nostri sostegni, con gli incentivi che abbiamo per tutte le aziende. È una proposta, a mio parere, seria e anche la dimostrazione che da noi la Lega si impegna sul piano economico e sociale a fianco dei lavoratori. Siamo a cercare con Lega Coppa appunto di vedere, di cercare di formare questa operativa che permetterebbe già il fatto di rimanere una realtà produttiva qui nel nostro territorio importante che ha 60 anni che è presente e soprattutto per vedere anche di salvaguardare i nostri posti di lavoro al di là di quei lavoratori che magari possono essere alla fine interessati veramente. La Maestrella è stata occupata a marzo scorso dopo un lungo braccio di ferro con la proprietà che oltre un anno fa aveva annunciato esuberi e promesso un rilancio che non è mai avvenuto. Nelle ultime settimane è stata aperta una procedura di licenziamento collettivo. Nel frattempo i lavoratori hanno deciso di tentare di costituirsi in cooperativa per dare continuità alle produzioni e salvare 33 posti di lavoro e 33 famiglie.